Devo dirlo con grande emozione, l'avete sentito anche prima in conferenza stampa, sento tutta l'urgenza e la responsabilità di questa candidatura, stamattina riflettevo fra me e me prima di arrivare e dicevo che pensavo nella mia testa che sicuramente questa è una delle cose più importanti fatte nella vita e sento il peso, sento la responsabilità, ma sento anche una grande emozione e determinazione. Sono contenta che ci sia una donna in campo per Teramo, molto. C'è anche l'apertura verso il centro-destra, si aspetterà, ma comunque ha già detto che è disponibile a parlarne e a trovare anche una qua. Sì, assolutamente, io ho partecipato per un anno a tavoli politici su Teramo, quindi la riflessione è aperta con tutte le forze politiche. Dicevo prima, questa non è una candidatura contro qualcuno o qualcosa, ma è una candidatura a favore di qualcosa e quando la candidatura è una candidatura propositiva, la mia campagna elettorale sarà una campagna elettorale di responsabilità sui temi, quindi credo che si possa assolutamente trovare una quadra fra persone intelligenti, quindi io sono aperta a parlare con tutte le forze politiche, e di destra e di sinistra. Prima con Dalberto, adesso contro Dalberto. Cosa è cambiato in questi anni? È cambiato il fatto che Dalberto ha scelto nel 2020 di cambiare la sua giunta comunale, estromettendomi decisione politica, sulla quale io ho meritato a lungo, è una decisione che ho mal digerito dall'inizio, perché ovviamente emotivamente non è stata una scelta semplice da sopportare, ma dall'altro canto in quella decisione di inserire in maggioranza i cavallari di Dalmazio che siano candidati contro di lui, lui ha fatto una precisa scelta politica che io ho accettato e quindi ci siamo trovati su posizioni diverse. Lei prima ha parlato dello stadio comunale, insieme all'ospedale saranno i grandi temi di questa campagna elettorale in generale? Saranno i grandi temi di questa campagna elettorale senz'altro, ma ce ne sono tanti altri, il recupero del vecchio ospedaletto, ci sono tanti luoghi che vanno ripristinati, recuperati. Io ho un'idea globale della città, presto ve la presenterò. Teramo adesso è come se fosse un neonato che deve essere portato alla maturità e deve essere portato alla maturità nel miglior modo possibile e quindi certamente, sicuramente, i due temi citati sono fra i tempi più importanti.